Ciao ragazzi, sono Matteo Lembri, sono qua con questo video particolare, anche perché oggi devono entrare, vediamo se vede nulla, due nuovi Lembri in squadra, a tra poco. Sono in macchina ragazzi, sono in macchina, sto andando a fare il mio acquisto, a tra poco. Sono quasi arrivata la mia meta ragazzi, manca poco, manca poco me lo sento. Sto filmando eh. Ho raggiunto la mia meta ragazzi, la mia meta, la mia meta. Eccoli ragazzi, eccoli, eccoli, eccoli. Eccoli, anche se stai non so se sono uguali a me. Vuol dire che la mia meta, sul fondo, eccoli. Eccoli. Vali, dovresti insi, già fin. ho quasi portato a termine la missione ragazzi ora mia mamma arriva e ci vediamo a casa sono arrivato ragazzi sono andato a casa arrivato a casa sto per terminare la missione la tua vita è già uscita? ma che bella c'è? non è possibile stare dietro? i miei papà scatti di burge oh calmi ragazzi dove è l'altro? non è possibile A presto Ciao a tutti ragazzi per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuta fate un commento e mi piace, se avete consigliere a darmi fatemi sapere nei commenti, non ne ho male, grazie mille, ciao alla prossima, ciao ragazzi!